Ciao a tutti i casualti di questo episodio di scopriamo lo snapshot non lo so uno uno Allora Snapshot 13v41a Episodio breve perché sono state aggiunte solo due cose E una penso non interessi praticamente a nessuno La cosa che invece interessa penso a tutti è quella che vedete in questo momento Vetri colorati Tutti i colori per il vetro Dal bianco al nero tutti e 16 colori Sono in serio Ma muori Ok Come si crafta? Molto semplice si crafta come la clay 8 pezzi di glass e un colorante 8 stain glass del colore che vogliamo noi In questo caso Lì mi esplosio qualcosa Mi lasciamo perdere Mi piace Mi piace come introduzione perché a mio parere è una cosa che mancava Era un deficit della possibilità creativa di minecraft avere dei vetri colorati Sono molto curioso per quanto riguarda soprattutto i vetri più scuri Tipo questi tre E anche il vetro bianco Aprono delle possibilità davvero interessanti Poi con questi altri colori penso che farai principalmente le vetrate di un asilo Ma non penso perché uno debba fare un asilo in minecraft Anyway Una cosa che non mi piace se posso permettermi è un paio di contrasti che ci sono tra la versione in clay vetro e lana di questi colori ad esempio il verde Questi sono i contrasti e a mio parere la lana verde distoglie troppo da questi due colori e quindi sempre a mio parere sarebbe opportuno un piccolo rework della lana con un colore meno diciamo pesante rispetto ai primi due Gli altri hanno principalmente colore simile, il blu differisce un po' come questo ma è un po' più netto in effetti e il nero non è così nero nella versione clay E' più violaceo Le uniche pecche che avevo da dire L'altra cosa è che le super sacred settings ora quando io cambio Viene modificato hanno modificato leggermente i suoni Non capisco mai quando cazzo è finito E' finito o no? Ora? Si è finito Dunque per questo episodio è tutto Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace se mi piace L'introduzione dei vetri colorati La 1.7 si avvicina Non ci sono state molte introduzioni in questo snapshot Principalmente perchè Dinderbone che è lo sviluppatore diciamo principale di minecraft E i jeb Hanno lavorato al codice A livello network quindi per i server e cose varie E un'altra cosa molto interessante Che interesserà a chi di voi ha un server O diciamo Visita spesso il server e ci gioca Verranno introdotte Con una certezza del quasi 99% Le icone per i server Che vuol dire che io vedrò accanto qui il nome del E si il nome Un'immagine semplicemente Poi sarà 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 compito di Dei vari host Vedere un po' il gestire Però Sarà una cosa Penso Un Un file di configurazione Basterà cambiare nome a qualcosa Non lo so Però è un'idea carina Ed è un file 32x32 se non sbaglio Quindi anche lì comunque è molto pixeloso Quindi per questo episodio è davvero tutto E un saluto Ciao a tutti Ciao a tutti